E mi trovo qui in questo momento col CSI Gravellona, nomi? Ciano Luciano Zanni Stefano Prima domanda, com'è mai i colori rosso-nero oggi? Eh, perché praticamente siccome sono dell'Inter almeno abbiamo portato un po' sfiga al Milan oggi quindi potrebbe essere una soluzione importante Un riassunto della partita di oggi Guarda, la partita 5-1 è il risultato abbastanza giusto, abbiamo giocato abbastanza bene, no? Cosa dici? Sì, sì, potremmo fare anche qualcuno di più se i capitani segnano invece che sbagliare i gol di ante alla porta Ho già fatti due, gioco in difesa, quindi posso permettermi di fare solo due gol Hai già fatto anche troppo Sì, anzi, già anche troppi Quindi Un saluto, vorrei fare un saluto al nostro compagno di squadra Alan Al Angria che si è presentato e ci ha fatto piacere avercelo con noi in campo E la figlia che Zanni ha fatto doppietta, quindi fate voi Cioè, fate proprio voi Grazie, grazie per la disponibilità, in bocca al lupo per le prossime Sempre in meglio Grande Ciao Emo, grazie